Nei saloni del centro giovani Cairos di proprietà della Curia Vescovile di Teramo in via San Berardo si tiene fino al 20 giugno la mostra del pittore terramano Gianni Di Francesco. L'allestimento è stato curato da Alvaro Paternò e per la parte critica dal professor Neriorosa che da sempre apprezza questo giovane artista per quel suo non utilizzare tradizionali elementi descrittivi, un posto moderno tutto da ammirare. Che novità c'è in questa mostra di Di Francesco? In questa mostra di Di Francesco vengono presentate le ultime opere, le opere dell'ultimo periodo nel quale l'artista, sentendo quello che comunque ci dice il nostro critico che ha seguito l'artista nel suo sviluppo artistico, ha avuto un'importante evoluzione. La tecnica è rimasta invariata, viene sempre utilizzata la tecnica di olio su tela che è un'arte comunque, una tecnica che viene utilizzata dal XVII secolo e le opere di Gianni in questo locale sono circa 18 pezzi ed appartengono all'ultimo periodo di produzione dell'artista. La cosa anche particolare è che viene allestita dentro i locali della Curia. I locali della Curia non sono a caso e torniamo qui a Kairos a Teramo dopo due anni di studi, di ricerca e di evoluzione di altre mostre. È importante la scelta dei locali in questa città perché comunque tutte le opere di Gianni, che è un artista che si occupa di questo a tempo pieno, 24 ore al giorno e nella propria vita terrena fa solo e esclusivamente questo. E tutte le opere sono frutto e conseguenza di un'esigenza spirituale che l'artista ha avuto e ha per comunque soddisfare la propria esistenza terrena. La mostra di Gianni Di Francesco dal titolo Emergenze fenomeniche di superfici postmoderne è in lista per essere ospitata presto dalla Pinacoteca di Torino.